Salve a tutti i friends dal vostro Super Corris, eccoci qua ragazzi, videuzzo dove parliamo di un argomento che è uscito fuori spesso sul mio canale Ovvero molti di voi mi hai detto però Corra io poi seguo quello e mi rendo conto che poi non è abile, seguo quell'altro e non è l'altezza, come faccio a riconoscere se uno youtuber può parlare o meno di Formula 1, se ha le competenze Questo è un video proprio specifico per farvi capire quali sono le caratteristiche che io ricercherei in uno youtuber che parla di Formula 1 se non facessi questo lavoro Quindi se io fossi esterno ed appassionato di Formula 1 cercassi uno youtuber che parla di Formula 1 queste sono le caratteristiche che io ricercherei Allora ci tengo a precisare, aprite le orecchie perché tante volte poi la gente non lo capisce, non è un dissing per nessuno, io non seguo nessuno che parla di Formula 1 Io gli unici canali e le uniche volte che seguo qualcuno che parla di Formula 1 a inizio stagione, Giorgio Piola, Motorsport, giusto per quelle prime 4-5 cose che dicono sull'ambito tecnico della macchina Poi non seguo nessuno perché sto tutti i giorni a fare io il lavoro di persone che parlano di Formula 1, quindi mi informo giusto sulle notizie, le cose che mi possono servire E poi non seguo perché mi annoia, la tecnica mi annoia terribilmente, seguo solo le cose basilari, ovvero quello e l'altro Il DRS Red Bull, le novità, le cose proprio marginali Io sono uno che ama molto più le storie, i piloti, le varie situazioni un po' più romantiche E in più non mi piace seguire nessuno perché quelle poche volte che ho seguito qualcuno parlare di Formula 1 Ho sentito sempre le chinagge e cose varie che a me non mi interessano, io voglio essere pulito Io anche negli altri ambiti ragazzi seguo solo gente, pochissima gente che parla in maniera netta Tipo Falconero e queste persone qua In ambito Formula 1 non seguo nessuno, non è un dissing, siete voi che spesso e volentieri mi riportate le notizie degli altri Quello ha detto, quello ha fatto, nel 90% dei casi non mi dite neanche chi è lo youtuber Mi dite solo, eh ho sentito uno che ha fatto questo, detto quest'altro Quindi io non so neanche chi parla di cosa e non mi interessa All'inizio agli albori che ho iniziato a parlare di Formula 1 Seguivo due o tre persone che parlavano di Formula 1 Le ho abbandonate completamente perché quando sento uno che non prende posizione Non dice mai la sua, tutto bello, tutto fantastico, a me non mi serve A me mi serve per come sono fatto io caratterialmente qualcuno che prenda posizione e mi dica il suo pensiero Perché io seguo qualcuno perché ne condivido il pensiero, non perché parlo di qualcosa Se voglio sentire qualcuno che parla di qualcosa così a casaccio mi guardo Sky, Sport, TG, Mediata Sport e mi vedo le notizie Mi piace sentire qualcuno che prende posizione Perciò, detto tutto questo, non è un dissing per nessuno Non mi interessa seguire nessuno, non mi interessa parlare male di nessuno Non mi interessa niente di nessuno La Formula 1 io la intendo al modo mio e ne parlo nel modo mio sui miei canali Quindi gli altri possono fare quello che gli pare Certamente vi dico le cose che per me sono basilari Per capire se uno può parlarne o no Perché chiaramente l'unica cosa che posso dirvi Mi escono spesso sulla home le copertine dei video di certe, di queste persone Di molti di questi Che non vado manco a vedere chi sono Però vedo la copertina e vi dico Vedo dei titoli francamente scandalosi nella maggior parte dei casi E truffandini solo per attirare il click della persona Allora, come al solito prima di partire Iscrivetevi a tutti i miei canali Lasciate un like, seguitemi sui miei social Sul canale Telegram delle offerte Supercorris offerte Amazon Dove tutti i giorni mettono migliore offerte di Amazon In ambito tecnologie e videogiochi C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola C'è il canale Gruppo Telegram Supercorris 84 News in anteprima, sondaggi con cui vi chiedo Cosa volete vedere sui miei canali Parlare con me e gli altri ragazzi Qualsiasi argomento Stasera saremo in live sul canale Supercorris 3Gamer Per seguire il derby di Champions C'è la mia raccolta fondi Supercorris and Friends Trovate il link in descrizione Se volete potete aiutarmi a raccogliere fondi Da donare in beneficenza Basta un euro ragazzi Un semplice euro per aiutarmi a fare questo progetto A seguire questo progetto importante Fine mese faremo la donazione Allora Il primo argomento che uno youtuber Che parla di Formula 1 Secondo me dovrebbe trattare Ed è fondamentale È parlare di Formula 1 in ambito storico Allora ragazzi Chi non conosce la storia della Formula 1 Sostanzialmente secondo me Può parlare molto poco anche di quella attuale Perché Come fai a paragonare Domini Qualità dei piloti Gare Se tu non sei quello che c'è stato prima Come fai a dire Verstappen è il migliore di Verstappen Ha queste caratteristiche Quando si fanno paragoni Se tu non sei chi c'è stato prima di Verstappen Come fai a paragonare Verstappen a Schumacher A Senna Se tu non sei chi sono Schumacher e Senna Quindi Fare video storici sulla Formula 1 Innanzitutto Aiutano Aiuterebbero I video storici A far crescere la cultura generale Sulla Formula 1 Che è molto bassa Soprattutto in chi segue Che magari è composta Nella maggior parte Da gente che segue la Formula 1 Da 3 anni Da 2 anni E pensa di sapere tutto No Non sapete nulla Quindi Chi non parla della storia della Formula 1 Secondo me O non la sa Spesso e volentieri Molto probabile Perché molti entrano A parlare di Formula 1 Negli ultimi mesi Se vedete che uno si occupa solo dei video Il gossip Le notizie istantanee E dopo In mesi che non ci sta la Formula 1 Non parlano di nulla Vi dovete porre una domanda Dovete dire Questo probabilmente Di Formula 1 Ne capisce poco Perché Trovare la domanda Su Cioè trovare la notizia Su Google E farci un video Sono capaci tutti Ragazzi Io prendo pure mia mamma Che non ne sa nulla La metto qua Gli faccio leggere la notizia Dico quello che deve dire Fa un video con 7000 ritagli E te fa lo video Sembrando un'esperta No L'esperto è colui Che ti dimostra Di avere una cultura Di quell'argomento Storica Non solo di quello Che è successo l'altro ieri Quindi Già se uno Non ne parla mai Anche nelle live Vi dico sempre Quando queste persone Fanno le live Andategli a rompere le ball Fategli le domande scomode Anche sul passato Vedete se vanno in difficoltà Io non ci vado mai In difficoltà In live Quando mi fate 10.000 domande In un'ora Perché evidentemente C'ho una cultura dietro Quando questi qua Fanno le live Bombardare Fate domande scomode Vediamo un po' Che vi dicono Eh ragazzi Fare video storici È molto meno remunerativo Di fare video attuali Io ogni giorno Mi sveglio Apro google Vedo la notizia E ve la sparo là E faccio migliaia Di visualizzazioni Io ho fatto una marea Di video storici Sulla formula 1 Proprio perché Volevo che la cultura Generale salisse E volevo esprimervi Quello che la formula 1 A me mi ha dato Quindi Chi non ne parla Né nelle live Né nei video Secondo me Già non è uno youtuber Credibile Perché parlare Dell'attualità Sono capaci tutti E non ci vogliono competenze Secondo ambito Non lecce il sedere A nessuno Io seguivo Uno youtuber Anni fa Dato che non avevo Nessuna esperienza Che faceva live Video Live sul canale viola Tutto bello Tutto fantastico Parliamo di Ferrari Ferrari ripresa Parliamo di Red Bull Red Bull Bell Mercedes grande Cioè ogni volta Che vedevo i video Di queste qua Le live di queste qua Lavoravo molto meno di oggi Cioè dice Ma porca puttana È possibile che sta persona Non deve dire mai Mezza parola negativa E parliamo del 2021 Dove su Ferrari Ragazzi Ci si potevano scrivere I libri di negatività Tutto bello Tutto fantastico Mi sono rotti i coglioni E non l'ho seguito più Ma proprio Dependato da tutti i canali Perché Chi non Chi lecce il sedere A tutti A tutti Non prende posizioni Parla bene di tutti In qualsiasi ambito Secondo me non è credibile E già per quello Non ti seguo Chi fino a due giorni fa Va detto che Ferrari Vinceva il mondiale Che Red Bull Poteva essere ripresa Che tutto bello Tutto fantastico Alonzo fantastica Cioè già da quel punto di vista Ragazzi A me non piace Il sedere Significa che Sta sempre a fare Le manfrine Perché poi Ti ha da fare L'intervista Magari Che Kingero Che Banzini Io non sono così A me di pensare Che fra cinque anni Posso essere A livello di ascolti Grosso Da fare Intervista a Banzini Se io la vorrò fare La vorrò fare Anche avendo detto male A Banzini Non è che devo pensare A leccare il Google Perché la gente Sta a pensare già Allo futuro Eh no Devo parlare con quello E fanno tutte le stesse cose Quindi Già chi lecche il sedere In giro Per poterne avere Un tornaconto A me già non mi piace Terzo punto Non prende mai posizione Ragazzi In questi anni È stato proprio Il Sono gli anni migliori Per prendere posizione E dire Quello che si pensa Su Quello che sta accadendo E c'è gente Che non prende posizione Cioè come non fai A prendere posizione Su quello che ha fatto La Mercedes Negli ultimi anni Come fai A non parlarne O a parlarne In maniera evasiva Oppure a dire No ma sono complotti Non è vero Cioè ragazzi È palese Che Mercedes Ha rubato Per anni E c'è gente Che non prende posizione Come fai a non prendere posizione Su questa situazione Red Bull Che è vergognosa Una Red Bull Che fa quello che gli pare Cioè uno youtuber Che non prende posizione E non ti dice No io penso di Red Bull Questo Cioè non è credibile Oppure uno youtuber Dice Vabbè ma Red Bull Non sta rubando Perché si deve tenere buoni Quei quattro Che ti fanno Red Bull È una persona Non credibile Si prende posizione Uno che non prende posizione Sulla Ferrari Sull'Eclerc Non ti dice le cose Come stanno Come ho sempre detto io Non sono competitivi Non possono vincere Manca qualità nel team Cosa che diciamo da anni Cioè come si fa A seguire una persona Del genere Ragazzi Questa è gente Questa è gente che mi Continua a mettere in culo Le supposte Bacu migliorati Mondiale 2023 Possibile Ecco perché vi dico io Una persona che non prende posizione Non dice il suo pensiero reale Su quello che accade Non è credibile E io non la seguirei mai Quarto Azzecca previsioni E capisce cosa accade prima Allora ragazzi Il fatto di azzeccare le previsioni Non è fare la prediction Come fate voi Chi vince oggi Mi dici il podio Chi vince la Champions Il campionato Le olimpiadi La madonna Dolora No Azzeccare quello che accade prima Significa In larghe linee Capire che Dall'anno scorso Red Bull avrebbe dominato E l'ho fatto io Dopo Bacu Più di un anno fa Che Ferrari Non avrebbe vinto nulla Lo stesso con la macchina competitiva Già l'anno scorso L'ho fatto io Dopo l'Australia Ferrari aveva vinto due gare E stava secondi in uno Aveva fatto Quante doppiette Comunque aveva fatto pure doppiette Azzeccare quest'anno Dopo aver visto la macchina a Fiorano Che la Ferrari Andava male Azzeccare nei test Che c'era tensione in Ferrari E dopo poco È stato cacciato Sanchez Azzeccare nei test Che la macchina Era un disastro Subito Il primo giorno L'ho azzeccato io Dirvi che Red Bull Quest'anno avrebbe avuto Un dominio ancora peggiore Degli anni scorsi Ve l'ho detto io Dire che Ferrari Non è migliorata Assolutamente Abbacu Ve l'ho detto io Io azzecco tutto quello Che vi dico Perché sostanzialmente Mi baso su Intuito E storicità Vedo le clerche Guardo già Analesi E faccio dei paragoni Questa è la cultura E mi permettono Di arrivare Prima degli altri Chi vi dice Inizio mondiale Vedendo i test E queste cose L'hanno visti Perché molti Secondo me Anche l'hanno vista E vi dice No la Ferrari Quest'anno lotta Per il mondiale Solo perché L'ha detta Vassar E ha sbagliato Completamente la previsione Vi sta dicendo Una minchiata Chi vi dice Che la Red Bull Può essere recuperata Durante la stagione Ma già dalle prime gare Vi dice No ma alla fin fine Siamo solo all'inizio Il mondiale è lungo Chi vi dice Se minchiate qua Non capisce niente Di Formula 1 Perché era palese Per tutti Che Red Bull Già dai test Aveva ucciso il mondiale E l'aveva detto Otto Wolf L'avevano detto Pure altri L'aveva detta Russell Chi non azzecca Una previsione Vi dice Che la Ferrari Sarebbe migliorata In maniera poderosa Che a Baku Era migliorata Fatti video Ferrari è tornata A Baku Siamo tornati Ferrari Seconda forza del mondiale Contrario di quello Che vi ho detto io Che Ferrari Anche a Baku Era la quarta forza del mondiale E sarà salvata Grazie alle Clerchi Chi vi dice queste cose Ragazzi Vi deve far capire Che non c'è La cognizione Di quello che vi sta dicendo Quindi per quello Che è la mia filosofia Non lo seguirei Quando vedi Che uno Non azzecca mai Le previsioni Fa dei video Dove dice Riporta notizie Che poi sono infondate A quel punto Io prendo E non ti seguo più Ma è che devo aspettare 10.000 volte Ragazzi Il tempo è prezioso Se devo perdere 20 minuti Mezz'ora A seguire i video Di gente Che dice minchiate Non le seguirei Quindi Chi non azzecca mai Una previsione Ti fa capire Che non ha cognizione Di quello che sta guardando Probabilmente Allora Chi Io non seguirei mai Chi parla di Formula 1 Soltanto a periodi Ma non lo seguirei mai La Formula 1 Va parlata Tutti i giorni Tutte le settimane Tutti i mesi Mi fa ridere Sono canali Da quello che mi avete raccontato voi Che evidentemente Finisce la Formula 1 Stanno mesi Si fanno un video Ogni tante di gossip Quando esce la notizia E non si parli più Settimane Su settimane Senza parlare di Formula 1 Ragazzi Che ci vuole? Formula 1 Tra la storicità Il giudicare Quello che accade Ogni volta E il parlare Comunque Delle notizie D'attualità La Formula 1 Si può parlare sempre Voi avete visto Che nei tre mesi In cui la Formula 1 Non si è corsa Io ho parlato Continuamente Ho parlato E ho continuato A parlare di Formula 1 Senza problemi Facendo due barra Tre video al giorno Com'è possibile Allora sta cosa? Spiegatemelo Perché ci sta Una competenza Quelli che invece Parlano di Formula 1 Solo quando ci stanno Le gare I test In maniera sporadica Quando non ci sta Sta roba qua E' gente che non può Parlare di Formula 1 Secondo me Perché se hai una Cognizione di quello Che devi dire E non è che vi sto Di video di Formula 1 Dici ma ci vuole tempo Ma non è quello Perché i video di Formula 1 Accendi la telecamera Se sei quello che devi dire Non serve ragazzi Fare gli sfondi Le grafiche Le cose Che ne servono cazzo Né Sky Né Mediaset Qua io penso E' molto più giusto Fare video parlati Per dire quello che si pensa Anche senza montaggi Io seguo Falco Nero Che è l'unico Che mi piace veramente Come parla Perché Falco Nero Fa video come me Senza montaggi Parla 20 minuti E tu lo stai a sentire Perché sa quello che deve dire Raccontare di gente Che 20 minuti 8000 tagli Hanno video Le grafiche Le cose Gli sfondi Quando poi il messaggio del video Fa cagare Quindi meglio il contrario Secondo me Se non stai sempre Sul pezzo della Formula 1 Vuol dire che non hai argomenti Per parlarne Perché Ti devi basare solo Sulla mera attualità Chi conosce la Formula 1 E ama la Formula 1 Parla sempre di Formula 1 E infatti mi aggancio al sesto punto Parla anche di altri aspetti Della Formula 1 Non solo di gossip Ragazzi è facile Parlare delle notizie E Vasser E Leclerc E quella dichiarata E quella detta E Ferrari porta St'aggiornamento E quella porta quest'altra Perché non si parla Anche degli approfondimenti Dei piloti Nello specifico Delle loro storie Che abbiamo fatto noi Dei profili Delle pagelle Dei rating Di tutte le cose Che abbiamo detto Dei piloti Della storicità Degli eventi Delle piste Perché non si parla Anche di tutto ciò Perché molti non lo fanno Abbiamo parlato di tutto Della Formula 1 Delle piste Dei vecchi mondiali Abbiamo fatto i recapponi Dei vecchi mondiali Ne faremo altri Delle storie Di alcune gare leggendari Perché molti non lo fanno Perché probabilmente Non ci hanno Né questa passione sfrenata Né quella competenza Per andare a vedere Quelle cose Ultimo punto Ragazzi Far trasparire Il proprio pensiero Chiaramente Per me È impossibile Seguire E fidarmi Di una persona Se non dice Quello che pensa Anche se è scomodo Perché Far trasparire Il tuo pensiero Facendo la bella faccia Avanti a tutti No A me piace una persona Quando dice Qualcosa Sapendo che va contro I suoi Interessi Seguivo Falco Nero Io ogni volta Che seguo Falco Nero Che parla di videogiochi Non parla di Formula 1 Vedo che lui Dice cose Che possono andare A ledere La propria immagine Che significa questo Se c'è da parlare male Di una console Parla male di una console Se c'è da parlare male Di un gioco Parla male di un gioco Lui non si fa Questi problemi Ho fatto un video Bellissimo Vale la pena Ancora comprare I giochi al day one Per far capire Quanto è inutile Oggi comprare I giochi al day one Che escono sempre Incompleti Stessa cosa Quando lui dice Vale la pena Fare le recensioni Quelli sono video Dove lui chiaramente Critica Chi fa le recensioni Ancora prima del day one Chi Compra i giochi Al day one Per farsi vedere E poi si lamenta Che il gioco Non va bene In ambito formula one È la stessa cosa Cioè In questa epoca Non puoi non avere Un'idea ben precisa Sul valore Dei mondiali mercedes Sul valore Del mondiale red bull Su quello che sta accadendo In tutta la formula uno Sulla ferrari problematica È impossibile Non avere un'idea Ben precisa Di queste cose Chi non ce l'ha O non le esprime Vi sta prendendo in giro Ed è semplicemente Uno che punta A Le visualizzazioni Piuttosto che A dire il proprio pensiero Io ci tengo a dire Il mio pensiero E A non sottostare me A nessuno Quando parlo di formula uno Di altri argomenti E penso che questa Sia la dote Che voi dovete ricercare ovunque Perché Chi non lo fa Vi sta solo prendendo in giro È pieno il mondo di gente Che davanti vi fa la bella faccina Per farvi vedere Che sono bravi Fantastici Dietro sono le persone Più stronze dell'umanità E se ne sbattono i coglioni Di voi Della formula uno Di quella e di quell'altra Ne parlano Perché ultimamente Parlare di formula uno Ci si guadagna Se c'è un pubblico Guadagni Perché è un argomento Sempre di moda Però siete voi Che dovete capire Questa persona Merita di crescere La seguo La propongo anche in giro Questa persona Non merita di crescere Deve rimanere là Parla con i 3-4 seguaci E non rompere i coglioni In giro Perché quello che dice Assolutamente Non arricchisce nulla E nessuno che lo sente Ciao guadagno Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh oh oh... Oh oh...